Albano distrutto da Romina Power e Loredana Lecciso perde la pazienza ed esplode. Albano esplode all'ennesima domanda del gossip con Loredana Lecciso e Romina Power. Non ne può più Albano Carrisi di tutte le chiacchiere sulla sua vita privata. Ha provato ad uscirne raccontando la sua verità ma non è servito a niente perché continuano a chiedergli di Romina Power e Loredana Lecciso, foto. Alla sua età non avrebbe mai pensato di restare bloccato nel gossip fino al punto di perdere la pazienza. Il giudice di The Voice of Italy in un'intervista a Davidemaggio.it stava raccontando della sua esperienza come vocal coach, protagonista di questa edizione del talent show tornato su Rai 2, ma alla domanda sul gossip che lo vede sui giornali a turno con Romina Power e Loredana Lecciso lui esplode, stanco o meglio esasperato da ciò che ascolta o legge. C'è chi è convinto che tutto questo a lui faccia comodo ma a giudicare dalla sua rabbia, dalle sue parole, sembra davvero che Albano vorrebbe mettere tutti a tacere ma non ne ha il potere. Non lo voglio, mi fa schifo. Ha esclamato rispondendo alla domanda sul gossip con le due donne che hanno fatto parte della sua vita. E, proprio a The Voice che ha scatenato polemica e commenti dicendo che è Romina la sua donna ideale e Albano risponde, per una volta lasciamo a casa il gossip, che ne ho le palle piene. Basta, non aveva mai reagito così e continua spiegando, nei giorni scorsi stavo camminando per le strade di Milano, aveva piovuto. C'erano delle pozzanghere e delle persone camminavano sul marciapiede. È passata una macchina a tutta velocità e le ha spruzzate con il fango che stava in mezzo alla strada. Ecco, per me quello è il gossip. Non lo voglio, mi fa schifo e non voglio stare più lontano possibile. Non potrebbe essere più chiaro. È stanco di tante chiacchiere mentre l'Alecciso continua a dire la sua sulla rivista Chi. Sulle trasmissioni che parlano di loro tre il cantante pugliese dice. Le odio. Io le odio. Le detesto. Scendo anche in campo per difendere la verità me ne approfittano ancora di più. Non ci sto a questo gioco al massacro. Albano e Romina Power nonni del bellissimo figlio di Christel e Deivor. Albano e Romina Power nonni del loro primo nipotino. È un maschietto, figlio di Christel e Deivor. Albano e Romina Power sono diventati nonni. Christel Carrisi ha messo al mondo il suo primo figlio a meno di due anni dal second Eivor Liu Kasich. Foto. Come si chiama il nipote di Albano e Romina? Quando è nato? Dove si trova adesso? L'hanno già visto e così via perché sono tante le domande che pongono i fan dell'ex coppia d'oro. Iniziamo rispondendo che mamma e figlio stanno bene. Che il piccolo appena nato si chiama Kay o almeno questo è il nome che ha pronunciato il cantante nonno ieri sera ad inizio puntata di The Voice of Italy. Era la finale del talent e non poteva esserci per il vocal coach momento migliore per dare la bella notizia. Doppia vittoria ieri per Carrisi che ha vinto la sua prima edizione e ha condiviso con tutti la gioia immensa di diventare nonno con Romina Power. Non si conoscono molti dettagli del bebè ma c'è tutto ciò che è necessario sapere. Crystal Carrisi ed Eivor Liu Kasich si sono conosciuti sei anni fa a New York e si sono sposati nel settembre del 2016. Da sempre la figlia di Albano e Romina ha sottolineato che lei e soprattutto suo marito non desideravano l'intromissione del gossip. Della sua gravidanza si è saputo un po' per caso ma la nascita di un nipotino non si può nascondere e al suo papà ha dato il permesso di dirlo tutti. A Labano e Romina nonni è, nato il figlio di Crystal Carrisi. Un vero scoop per The Voice of Italy che ha rubato la notizia ai soliti programmi. Commosso Albano ha commentato. E, uno dei giorni più belli della mia vita. Lontani dall'Italia Crystal ed Eivor proteggeranno dai curiosi il loro bebè mentre immaginiamo che i nonni viaggeranno tanto per vederlo crescere. Se vorrà gli insegnerò anche a cantare. Ha commentato pochi giorni fa il cantante di Cellino San Marco, aggiungendo. Mi piacerebbe molto incidere una canzone dedicata a lui. Sua mamma Crystal è una bravissima compositrice. Può pensare lei alla musica. Per il momento ancora nessuna foto da parte della famiglia sul nuovo arrivato in famiglia o sulle loro emozioni. E, un momento privato, è la vera felicità. E, al momento solo una indiscrezione ma il matrimonio tra Albano e Romina Power, le seconde nozze, potrebbe esserci davvero, foto. E, la rivista nuovo a lanciare il dolce pettegolezzo ripreso anche da Barbara D'Urso che sui gossip della famiglia Carrisi è sempre bene informata. Cosa c'è di vero sulle nozze tra Albano e Romina? Il, triangolo, ormai non esiste più. Loredana Lecciso non è da tempo la compagna del cantante. La loro storia d'amore è ufficialmente chiusa da mesi anche se lui parla di una fine arrivata già un po' di anni fa. Per l'ex coppia d'oro sembrerebbero quindi non esserci più ostacoli. Sono tornati insieme sul palco nel 2015 dopo 20 anni di rancori e separazione. Ma nella vita? Se Albano non dice molto sul loro legame e si limita a dire che è Romina la sua donna ideale e a condividere con lei musica e l'essere nonno, Romina Power ha fatto di tutto per fare immaginare che tra lei e il padre dei suoi figli ci sia molto di più. Così gli italiani tornano a sognare immaginando che Albano e Romina Power stiano davvero per sposarsi di nuovo. Sono più legati che mai ed è evidente. Sono più di tre anni che hanno riallacciato i rapporti e adesso che tutto il brutto è stato superato e che i figli nati dalla relazione con Loredana Lecciso sono grandi la favola d'amore può tornare. Non so cosa è che mi lega ad Albano, un legame indissolubile, ha detto Romina nell'intervista a Maurizio Costanzo mi fa venire davvero i nervi. Questa cosa che ci lega non smetterà mai, servono altre parole per confermare che l'amore per loro è tornato forte più di prima? Se Albano ha taciuto per tanti che l'amore con Loredana Lecciso era finito, immaginiamo che in questi ultimi anni per il bene della famiglia abbia taciuto anche il ritorno di fiamma con la sua Romina. Presto ne sapremo di più ma se nozze saranno forse questa volta saranno davvero segrete. Sono al settimo cielo Albano e Romina Power e non potrebbe essere altrimenti perché sono appena diventati nonni, il piccolo Kei, il figlio di Christel ed Eivor Liu Kasich, regala alla, ex, coppia d'oro una gioia immensa, un'altra vita, foto. Albano e Romina sono volati a Zagabria per conoscere il loro primo nipote. La Power poche ore fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con dei graffiti che hanno colpito la sua attenzione rivelando che si trova nella città dove sua figlia Christel adesso vive. Il cantante di Cellino San Marco è stato più espansivo e alla rivista Gran Hotel ha confidato quanto sia grande l'emozione di sentirsi nonno. Quali sono i suoi progetti per il futuro? Ovviamente riferito al piccolo Kei. Il piccolo Liu Kasich è nato lo scorso 10 maggio e subito dopo gli ex coniugi carrisi sono partiti ormai liberi da impegni di lavoro. L'artista ha annunciato la nascita del suo primo nipote proprio durante la finale di The Voice of Italy, talent che tra l'altro ha anche vinto. Mi sono sentito pieno di tenerezza e nello stesso tempo piccolo, minuscolo, di fronte al miracolo della vita. Kei è un bambino bellissimo, sono davvero felice, ha commentato nonno Albano confidando cosa ha provato dopo aver preso Kei in braccio per la prima volta. Albano e Romina Power con il nipote Kei, il figlio di Christel Carrisi. Una felicità che questa volta non trattiene mentre Romina dopo l'intervista andata in onda lunedì scorso su Canale 5 preferisce non dire niente. Mi sento amore allo stato puro. Quando un genitore diventa nonno è un po' come se tornasse alla linea di partenza per cominciare di nuovo. E dal momento che non ha la responsabilità diretta di quel bambino, può solo dare affetto, un affetto smisurato, ha proseguito lui tra le pagine di Gran Hotel. Sono le stesse parole che ascoltiamo da tutti i nonni. Per i nipoti il bene è immenso e senza responsabilità si può godere ogni istante di questo amore.